ciao a tutti amici di alessandro e benvenuti in questo nuovo video oggi mi è arrivato un prodotto fantastico che ho assolutamente necessità di farvi sapere che mi è arrivato non perché voglio farvi la recensione perché vabbè adesso mi sembra troppo presto non l'ho ancora provato lasciatemelo provare almeno due settimane ma allora vi chiederete per quale motivo io stia facendo un video beh perché voglio mettervi voglio mettervi al corrente di quello che sono i miei test che faccio tutti i giorni guardate questo è lo switch ve lo faccio vedere esteticamente qui abbiamo le quattro le otto porte ethernet che tra l'altro sono tutte porte poi e abbiamo poi anche i due modulini per praticamente la fibra sono modulini che vedete questi sono tappini si aprono e qui praticamente dovete mettere i moduli gbic che sono disponibili anche sul sito tipi link e qui abbiamo l'ingresso per l'alimentatore vedete da 48 volt 1.25 ampere ora qui abbiamo tutta una serie di spiette spiettine qui nella parte frontale abbiamo anche il forellino di reset lasciamolo un attimo da parte vi parlo un po di specifiche tecniche di questo prodotto questa è la confezione di vendita vedete molto bella molto fornita all'interno abbiamo l'alimentatore abbiamo lo switch abbiamo il cd con tutte le istruzioni e software per gestirlo perché è uno switch gestibile abbiamo la possibilità di configurare vlan link aggregation abbiamo la possibilità di configurare lo spanning tree abbiamo la configurare la possibilità di configurare personalizzare l'erogazione del po e quindi spegnere determinati prodotti in determinati orari a riaccendere in altri orari penso per esempio un ufficio perché dovrebbe avere il wifi nella notte nello switch diciamo tu gli access point li spegni alla notte li riaccendi poi di giorno quando appunto ci sono i dipendenti a lavorare sostanzialmente quindi uno switch che devo essere sincero molto interessante mi preme tantissimo provarlo nella mia rete vedere che performance riesce a raggiungere e poi nella recensione definitiva ti parlerò più nello specifico di specifiche tecniche scusate la ripetizione di parola e niente per questo brevissimo video è tutto vi ringrazio niente ciao al prossimo video